Ciao, sono Roberta. Sono entrata in questa realtà dell'SS di malate in quanto io avevo veramente molta paura dell'ambulanza. Una mia carissima amica faceva già parte di questa realtà da tanto tempo e mi dice prova, prova, prova e io sono arrivata con tanto timore e tanta paura. Dopodiché entrando in questa realtà ho trovato delle persone veramente eccezionali che mi hanno fatto passare questa paura, fobia, chiamiamolo così. E da allora sono quasi 16 anni che sono in questa associazione. E' una bella famiglia, ci sono i momenti positivi, i momenti negativi. Sono entrata anche a far parte del gruppo istruzione, faccio formazione e questa cosa mi gratifica molto. Sia per quanto riguarda la formazione sia per quanto riguarda uscire con l'ambulanza. Ciao, sono Elisa, sono in associazione da 12 anni. Anch'io sono entrata per superare delle mie paure personali, tant'è che dovevo inizialmente fare centralino, poi mi sono ritrovata a fare uscite in 118, grazie anche ai miei scrittori. E niente, quindi dono anche tutto 5 per mille. Donate il 5 per mille. Grazie. Grazie.